Si chiama N5 ed è una macchina da rally importata dalla Spagna dal pilota e imprenditore terramano Alfredo De Dominicis che grazie alla sua azienda Dedo Engineering ne è diventato costruttore ufficiale in Italia. Si tratta di un prodotto assemblato con telaio e meccanica comune su scocche di diversi marchi automobilistici. Ottenuta la omologazione da AC Sport, De Dominicis ha proseguito il lavoro puntando, oltre che alla parte commerciale e sportiva, allo sviluppo tecnico della N5. Un aspetto che il noto pilota terramano sta implementando attraverso delle partnership sia con l'azienda emiliana Tedac Racing di Reggio Emilia per i prototipi da competizione, ma soprattutto con alcune realtà abruzzesi. Una è la PF Auto di Teramo, concessionaria a Peugeot, con cui, fa presente De Dominicis, è partito il primo modello derivato dalla nuova 208. Gli interventi sono molti e le vetture vengono stravolte a livello di telaio, meccanica ed estetica. Entra così in gioco, prosegue De Dominicis, la International Pure Components di Teramo, azienda leader in Europa nella fabbricazione di poliuretano e dei suoi derivati. Altre aziende partner sono la Stelt di Teramo di Alberto Taraschi, nipote del pilota Berardo, protagonista nella progettazione del collettore di scarico per la 208 N5. Quindi la OSLV Italia di Roseto, che fornirà prodotti di alta qualità per la pulizia del parabrezza nelle gravose condizioni delle gare automobilistiche. Sono particolarmente orgoglioso, conclude De Dominicis, di riuscire a coinvolgere nel progetto 208 N5 aziende della mia terra e della mia provincia in particolare, con tecnici e colleghi ingegneri di importanti imprese apprezzate in tutta Europa. Prossimo step, dotare l'auto di un motore elettrico nel segno della compatibilità ambientale.